Onorevole Vettor Romino, oggi l'inaugurazione di questa sede politica di Forza Italia. Sì, è una sede che stavamo da più tempo cercando, adesso dico un accordo con tutto quello che è il coordinamento provinciale. Abbiamo deciso di aprire questa sede proprio qua a Crudone, una sede provinciale per stare vicino alla gente perché vogliamo tornare, come ho sempre detto e come ho sempre ribadito, a fare politica vicino alle persone. Quindi questa sede sarà aperta a tutti e tutte le persone che dovranno portare le stanze territoriali, naturalmente non parliamo di stanze personali perché da questo punto di vista Forza Italia ha sempre adottato la sua politica, è disponibile per quello che saranno gli eventi politici e il supporto politico che questo partito può dare. Essendo un partito a livello nazionale in crescita, ritengo che Crotone abbia bisogno proprio di trovare una sua dimensione anche in questo, quindi ritengo che sia opportuno proprio dare un punto di riferimento alle persone sul territorio crotonese. Ad inaugurare questa sede Giuseppe Mangialavori, il coordinatore regionale? Ma non poteva essere diversamente, visto che il nostro coordinatore sta lavorando tanto bene per tutta la Calabria e adesso sicuramente anche su Crotone perché sappiamo bene che il governo regionale è un governo di centro-destra, quindi è chiaro che il nostro coordinatore regionale è quello da cui ci aspettiamo, questo supporto politico che naturalmente lui darà.